La mostra Marinai delle vecchie province fra i ghiacci al Museo Istriano di Trieste, organizzata da Lirci assieme al Triestino Museo Nazionale dell'Antartide Felice Ippolito, è un evento che per la sua importanza trascende i confini delle nostre regioni. Con esse il suo autore Enrico Mazzoli, già conservatore presso il Museo del Mare di Trieste, ha voluto ricordare i 150 anni della spedizione polare austro-ungarica del 1872-74 nella terra di Francesco Giuseppe, avvalendosi in buona parte dei materiali della sua ricchissima collezione privata, inerenti alla missione scientifico-esplorativa al Polo Nord, effettuata dal comandante Karl Weiprecht con la nave Admiral Tegethoff. Ricordato in tutto il mondo, nella sua Trieste, Weiprecht non ha una via né una targa, figurarsi un monumento. Il scopo della spedizione era aprire quello che si chiama il passaggio nord-est, quindi un passaggio possibilmente anche sfruttabile dal punto di vista commerciale dall'Atlantico al Pacifico. Questa operazione non riesce, mi è scoperto una vasta terra nell'Artico che è la terra di Francesco Giuseppe e scientificamente ci sono dei risultati notevoli che cambiano completamente quella che era la visione della geografia dell'Artico dell'epoca. Ebbero un ruolo fondamentale nell'impresa uomini delle nostre terre. Il Weiprecht era un tedesco naturalizzato triestino, era invece un austriaco mafio umano d'adozione Heinrich von Litrov che ebbe il compito di mettere insieme l'equipaggio composto per la prima volta non da nordici, ma in buona parte da marinai, quarnerini, istriani e dalmati. Durò due anni, fu drammatica la ritirata, una ritirata che più si legge la cronaca e i diari dei partecipanti sembra addirittura impossibile che siano riusciti a sopravvivere, a uscire ad un'avventura simile e quindi è una cosa che è anche un monumento al valore umano, è il monumento delle nostre genti. Conseguenza di questa spedizione fu l'avvio dell'anno polare internazionale nel 1882-83 cui è dedicata la seconda parte della mostra, con l'idea di creare una rete di stazioni intorno ai poli. L'Austria vi partecipò con una stazione sull'isola di Yangmayen, l'Artico, che venne progettata e costruita nell'arsenale di Pola. Tra i tanti materiali in mostra spiccono i dipinti di Edward von Orel, un ufficiale della spedizione del 72 che divenne poi amministratore del castello di Miramare, nonché quelli commissionati da Julius von Peier, alpinista e comandante delle spedizioni su terra, suggestivi pure i diorami realizzati dal Centro Regionale di Studi di Storia Militare Antica e Moderna di Trieste. Ma il pezzo più pregiato è senz'altro il libro Commentari della Moscovia del 1550 di Sigismondo Herberstein, nato a Vipacco e la cui nobile famiglia aveva acquisito anche il feudo di Merenfels o Lupogliano in Istria. Fu lui a ipotizzare per primo un passaggio a nord-est per raggiungere la Cina, un altro grande dimenticato delle nostre terre.